Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Nelle foto condivise da Ande Ercel, che è andata in Italia, i suoi piedi hanno attirato molta attenzione. Ande Ercel, andata in Italia con Akan Sabank, di cui è innamorata da tempo. Ha condiviso le sue pose delle vacanze una dopo l'altra dal suo account sui social media. La cosa che più ha colpito nella condivisione del giocatore, che ha ricevuto più di 2 milioni di like in poco tempo, sono stati i suoi piedi. Gli utenti che hanno visto i piedi di Ercel hanno chiesto, sono i suoi piedi o un modello di scarpa, fatto il commento. Ande Ercel, che si è fatta un nome con la sua vita personale e le sue interpretazioni in serie TV. È innamorata di Akan Sabank da un po'. Il duo, che ha vissuto in pubblico senza nascondere la propria relazione, ora è in vacanza in Italia. Ercel inoltre non trascura di condividere con i suoi follower i frame della sua vacanza. Ande Ercel, che ha vagato per le strade d'Italia, ha condiviso le sue pose dal suo account Instagram, che ha 30,4 milioni di follower. Il post del giocatore senza aggiungere alcuna nota ha ricevuto 2,2 milioni di mi piace in breve tempo. Un dettaglio non è sfuggito all'attenzione di nessuno. Molti seguacci dei piedi dell'attore, sono i piedi o il modello di scarpa, ha fatto il suo commento. Sembra che i suoi piedi abbiano le ossa per la debolezza. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.